Cara Natascia, mi compiaccio dei proglessi che fa il piccolo, anche se purtroppo ricevo notizie di lui con grande ritardo, mentre lui certamente cresce e si sviluppa in maniera visibile di settimana in settimana. Presto comincerà a parlare, ma è veramente passato tanto tempo da quando Vasha era come lui oggi? Per me è come se fosse stato due o tre anni fa, ed ecco che ora anche il piccolo Paulic tra breve si metterà a parlare. La vita vola via come un sogno, e non si fa in tempo a far niente in quell'attimo che è la vita. Perciò bisogna apprendere l'arte del vivere, la più difficile e la più importante delle arti, quella di riempire ogni ora di un contenuto sostanziale, pensando che quell'ora non tornerà mai più. Cara Nulia, dopo un lungo intervallo, il 9 e 10 maggio, ho finalmente ricevuto le vostre lettere del 30 marzo e del 6 marzo. Penso che non occorra dirvi la mia preoccupazione. La nostra epopea con le alghe tra qualche giorno si concluderà, e non so proprio di che cosa mi occuperò in seguito. Forse del bosco, o meglio, a me piacerebbe applicare a questo campo l'analisi matematica. Il fatto che il lavoro con le alghe si concluda è una cosa naturale. Nella mia vita le cose sono andate sempre così. Nel momento stesso in cui riuscivo a possedere una certa materia, ero costretto ad abbandonarla per motivi indipendenti dalla mia volontà, e dovevo iniziare ad affrontare un nuovo problema, sempre partendo dai suoi fondamenti, per spianare una strada che non sarei stato io a percorrere. Forse in questo si nasconde un significato profondo, dato che questa situazione si ripete sempre nel corso di tutta la vita. L'arte della gratuità. Ad ogni modo, ciò è estenuante. Se io avessi intenzione di vivere altri cento anni, allora questo destino di tutti i lavori sarebbe utile, ma poiché la vita è breve, esso ha solamente un carattere purificatore, e non è affatto utile. Il Corano comunque dice, non accade nulla all'uomo che non sia già scritto nei cieli. Evidentemente di me è scritto che io debba essere sempre un pioniere, e niente di più, e anche questo bisogna accettarlo. Scrivo queste cose non tanto per me quanto per i figli. Le lezioni che ci vengono dalla stirpe devono essere assimilate, e devono entrare a far parte della coscienza, per far fruttare al meglio la propria vita, conformandosi a quanto ci si può aspettare e a ciò che è probabile. Il mio pensiero e le mie preoccupazioni sono sempre rivolti a voi, e a voi vorrei trasmettere la mia esperienza di vita e le mie riflessioni. 13 maggio 1937 Mentre scrivevo questa lettera, sono avvenuti dei cambiamenti nella mia vita. Ora infatti mi trasferisco al Cremlino, e probabilmente grazie a questo potrò dedicare più tempo al museo e allo studio della sua collezione. Il museo ora si sta rinnovando, è stato messo in ordine. Dai depositi e dai ripostigli hanno tirato fuori diverse cose nuove e interessanti. Ti bacio con affetto, cara Nulia. Cerca di riposare durante quest'estate, di andare più spesso a passeggiare, se non nel bosco o almeno in campagna, e in fondo è tanto vicino. Passeggiate soprattutto di sera, quando il sole è basso. E ricordatemi. 13 maggio 1937 Solovki Caro Kirill, su un giornale ho trovato segnato che viene istituito un dipartimento di tecnologia delle alghe presso l'Accademia delle Scienze. La mamma poi mi scrive sulle conferenze di PN dedicate al gelo. In questa stessa maniera mi viene sempre tolto ciò che era il mio lavoro, in cui ho raggiunto certi risultati e nella cui preparazione ho messo tanta fatica. Ripassando nella mente la mia vita, e ora di tirare le somme, noto una serie di campi e questioni che ho iniziato io, e di cui, dopo, si sono occupati tutti, o almeno tanti, mentre io sono stato costretto ad abbandonare l'opera. O l'ho abbandonata di mia volontà, perché ho orrore di studiare problemi dei quali tutti vogliono occuparsi e cercano di impadronirsi. Forse ti interesserà l'elenco di quelli più importanti. E matematica. I concetti matematici come elementi costitutivi della filosofia. Discontinuità, funzioni, eccetera. 2. La teoria degli insiemi e la teoria delle funzioni delle variabili reali. 3. Gli immaginari geometrici. 4. L'individualità dei numeri. Numero. Forma. 5. Lo studio delle curve in concreto. 6. I metodi di analisi della forma. In filosofia e storia della filosofia. 1. Le radici culturali delle origini della filosofia. 2. La base culturale e artistica delle categorie. 3. Le antinomie della ragione. 4. Lo studio storico-filologico-linguistico della terminologia. 5. Le basi materiali dell'antropodicea. 6. La realtà dello spazio e del tempo. In critica d'arte. I metodi di descrizione e datazione degli oggetti dell'arte antica russa. In taglio. Articoli di gioielleria, pittura. 2. La spazialità nell'opera d'arte. In specie nelle arti figurative. In elettrotecnica. 1. Lo studio dei campi elettrici. 2. I metodi dell'analisi dei materiali elettrici. La base della scienza dei materiali elettrici. 3. Il significato delle strutture dei materiali elettrici. 4. La diffusione delle resine sintetiche. 5. La diffusione e l'elaborazione degli elementi della depolarizzazione aerea. 7. La classificazione e la standardizzazione di materiali, elementi, ecc. Lo studio dei minerali di carbonio come gruppo. 9. Lo studio di una serie di rocce. 10. Lo studio sistematico dell'amica e la scoperta della sua struttura. 11. Lo studio dei suoli e dei terreni. E così via. Sono poi a parte la fisica del gelo, l'uso delle alghe. Avrei voluto scrivertelo in dettaglio, ma trasferitomi nel cremblino. Ho perduto un po' i pensieri. Ricordo però di aver dovuto scrivere molte cose. Vorrei una sola cosa. Che voi utilizzaste almeno un po' i miei lavori. Li metteste in ordine e li faceste vostri. In essi ho messo tanto sforzo e tante riflessioni. E so che di ciascuno di essi si può fare un libro. Un'altra cosa. Le osservazioni e gli esperimenti acquistano il loro senso solo quando sono formulati matematicamente. E per questo non sempre serve una grande finezza dell'analisi. Anzi, si riesce spesso ad ottenere buoni risultati con metodi primitivi. Devi pertanto abituarti a formulare i risultati di un lavoro almeno con semplici curve e le loro equazioni. Un bacio forte a te, caro Kira. Caro Olen, non riesco a ricordare che cosa possa essere quel qualcosa di ingiusto che secondo quando tu dici ti avrai scritto. Penso però che forse tu non abbia ben capito qualcosa. È molto difficile scrivere in maniera da essere sempre compreso in maniera giusta quando devi far conto di ogni centimetro quadrato di carta. Sappi comunque che ritengo mio dovere dire tutto ciò che di utile posso dire e non offenderti. Il segreto dell'attività creativa sta nel conservare la giovinezza. Il segreto della genialità nel conservare l'infanzia. La disposizione d'animo dell'infanzia per tutta la vita. È proprio questa disposizione che dà al genio una percezione obiettiva del mondo, non centripeta. Una sorta di prospettiva rovesciata del mondo. È per questo motivo tale percezione è integrale e reale. La percezione illusoria del mondo invece, per quanto splendente e chiara possa essere, non sarà mai definita geniale. Infatti l'essenza stessa della percezione geniale del mondo sta nella capacità di penetrare nel profondo delle cose, mentre l'essenza della percezione illusoria sta nel nascondere a se stessi la realtà. Le figure più tipiche della genialità sono Mozart, Fardy e Pushkin. Essi sono bambini per la loro forma mentis, con tutti i pregi e i difetti che da ciò derivano. Ho riletto ancora una volta la tua lettera e non riesco proprio a ricordare in che cosa io posso averti fatto dispiacere. Ad ogni modo ne sono dispiaciuto anch'io. Tu non puoi capire cosa prova un padre che desidera che i suoi figli siano non solo irreprensibili, ma rappresentino come l'immagine stessa del valore. Non per gli altri, ma per se stessi bisogna essere così. Non importa cosa gli altri penseranno di voi. Essere e non apparire. Avere una disposizione d'animo chiara e trasparente. Una percezione del mondo integrale e portare avanti un'idea disinteressata. Vivere così da poter dire nella vecchiaia di aver preso il meglio della vita, di aver fatto proprie le cose più nobili e più belle del mondo e di non aver macchiato la coscienza con le sozzure di cui si sporca la gente e che una volta esaurita la passione lasciano un profondo disprezzo. Ti mando un grosso bacio, mia cara. Cara Tika, quanto vorrei poterti dire molte, molte cose, perché tu senta che il tuo papà pensa sempre a te, ma non è possibile far questo per lettera. A dire il vero, anche a viva voce non è possibile. O forse sono io che non ne sono capace. Olia mi ha detto che ha ricevuto in regalo il poema di Shota Rustavelli, nel quale si parla della regina Tinatin. Lo stai leggendo? Perché io ti ho chiamata Tinatin, influenzato proprio da Shota Rustavelli. Questo poema lo sento molto vicino, per l'epoca in cui è stato scritto, per l'insieme della sua visione del mondo e per il colorito dei luoghi. Mi dicono che stai facendo progressi nella musica, ma sono felice. Quanto vorrei che voi assimilaste la tecnica al punto di poter leggere le opere migliori. Questo, infatti, vi potrà dare molta gioia. Bacio con affetto alla mia cara figlioletta. Salutami la nonna, Dean, F. Un bacio al piccolo e alla mamma. 4 giugno 37. Solovki. Cara Nulia, sarai forse sorpresa di ricevere così raramente le mie lettere, ma questo è dovuto al fatto che non potendo scriverne che due al mese, io aspetto le tue lettere per poterti rispondere e perciò ritardo anche le mie. Da te però non ricevo niente, o meglio, ricevo raramente e con grande ritardo. Vivo nel cremblino, ovvero non vivo, ma piuttosto trascino la mia esistenza, in quanto in queste condizioni non c'è nessuna possibilità di lavorare. Oltretutto qui fa molto freddo e non è possibile neanche stare fuori all'aria aperta. Ho superato una leggera influenza e ora mi sto curando la schiena con la fisioterapia, i raggi ultravioletti e i bagni di sole. Tutto ormai è finito, tutto e tutti. Negli ultimi giorni sono stato incaricato di fare la guardia di notte alla nostra produzione di iodio nell'edificio dell'ex Lodprom. Qui si potrebbe occupare il tempo utilmente. In questo momento scrivo questa lettera, per esempio. Ma il freddo disperato nella fabbrica morta, le pareti spoglie e il vento che ulula, infilandosi tra i vetri rotti delle finestre, non dispongono ad occuparsi di niente di utile. Infatti, vedi bene dalla mia scrittura che con le dita congelate non si riesce nemmeno a scrivere una lettera. In compenso, ripenso ancora di più, ma sono preoccupato. La vita si è fermata e ora più che mai ci sentiamo tagliati fuori dal continente. Siamo già al mese di giugno, ma non c'è il minimo segno dell'estate. Anzi, sembra piuttosto di essere novembre. Nebbia, pioggia, vento. Anche le rare volte in cui il sole si affaccia timidamente non fa più caldo. Peraltro, quest'anno la primavera è stata molto precoce ed è arrivata con due settimane circa di anticipo. Vivo in un ambiente relativamente tollerabile, con i nostri ex operai che per me sono vascia, miscia, fedia, eccetera. Ma naturalmente non tutti. Comunque, questa compagnia è incomparabilmente migliore di altre in cui sarei potuto facilmente finire. Ma anche le cose buone, se sono troppe, diventano difficilmente sopportabili. E da noi ci sono circa 40 persone. D'altronde, anche in questo c'è un lato positivo. Perché quando si è in 40, ci si sente più soli che se si è in 4, 5 o 6. Ogni tanto vado al museo. Do qualche consiglio e vi porto del materiale da esporre. In gran parte, collezioni che ho raccolto io e ogni altro genere di Jean Prusaglie, come diagrammi, cartelloni, vasellame vario dell'ex Lodprom. Il museo si trova in fase di ripresa. Ma chissà se resterà così a lungo. Sono cominciate le nostre notti bianchi della Slovki. E anche a mezzanotte fa del tutto chiaro. Come lì, a casa, la sera, subito dopo il tramonto. Infatti qui siamo talmente vicini al circolo polare che nelle notti più corte il sole, quando non viene sopraffatto dalle nuvole, illumina le cime degli alberi senza interruzione alcuna. Inoltre, alla nostra latitudine, esso si muove lungo una linea che è quasi parallela all'orizzonte e perciò si nasconde non molto al di sotto di esso. Ecco che sono già le 6 del mattino. Sul ruscello scende la neve e un vento folle fa vorticare la tempesta di neve. Nei locali vuoti sbattono le finestre coi vetri rotti. Il vento si insinua e ulula dappertutto. Si sente il grido allarmato dei gabbiani. E io sento con tutto il mio essere la nullità dell'uomo, delle sue opere, dei suoi affanni. Il giorno 5 o 4 ho ricevuto la tua lettera, numero 13 del 28 aprile. Ti ho già scritto che sono contento che Olia coltivi il giardino. Ma occorre fare qualcosa contro il suo dimagramento. Cioè bisogna che non lavori troppo e che mangi di più e cibi più nutrienti. Ti bacio con affetto, cara. Oggi si è affacciato il sole e fa un po' più caldo. Cara Tica, sotto una panchina, nel giardino interno del cremblino, un gabbiano ha costruito il suo nido e cova i suoi piccoli. Nonostante su questa panchina, per tutta la giornata, stiano sedute tante persone. E nel giardino, che non è più esteso del nostro cortile, si muova in continuazione molta gente. Questa animazione, anzi, è negli interessi del gabbiano, poiché la presenza della gente impedisce che si avvicinino al suo nido le volpi argentate, che di tanto intanto penetrano nel cremblino e cercano di attaccarlo. Mi pare di averti già scritto che questi gabbiani sembrano fatti di ceramica danese e sono molto eleganti. Uno di essi mi ha chiesto di dirti di essere attenta alla mamma, di obbedirle e di essere gentile con lei. Ma non so se occorre veramente ripeterti queste parole del gabbiano, perché tu stessa sai bene queste cose. Purtroppo io non posso scriverti più spesso. Piegalo tu, alla mamma, e dille di non dispiacersi. Ti bacio con affetto, cara Tika. Cara Olia, immagino che i tuoi lavori nel giardino vadano ormai bene. Cerca ora di concentrarti su ciò che fai, per non disperdere la tua attenzione e non sprecare inutilmente il tempo. Leggi quindi qualcosa su quelle questioni con cui ti confronti nella pratica. Sarebbe ancor meglio se tu leggessi qualcosa su queste questioni in inglese o in altre lingue. Che peccato che i miei libri siano andati perduti. In essi c'erano molti materiali sulle questioni di botanica applicata, soprattutto nelle cartelle, molte edizioni americane. Alla botanica applicata è collegata a un'infinita quantità di questioni, praticamente in ogni campo del sapere, perciò occupandosi di coltivare il giardino. Non solo è possibile ma addirittura opportuno arricchirsi di una comprensione unitaria della vita del mondo, anche se da un punto di vista specifico e ristretto. Questo è l'unico approccio giusto per lo studio del mondo, secondo lo spirito di Goethe. Sono però preoccupato per la tua salute. Cerca di procurarti almeno per l'estate cibo migliore, tanto più che d'estate questo è più facile. Tra l'altro cercate di consumare più erbe, perché oltre ad essere più buone aiutano il metabolismo, in quanto contengono diverse vitamine. Così per esempio i germogli appena spuntati dell'acetosella, dell'astellaria, dell'ortica, del soffione, le radici della lappola e del soffione. In me vive la convinzione che il mondo vegetale, specialmente allo stato selvatico, contenga una gran quantità di diverse sostanze di cui nella nostra nutrizione abbiamo carenza, ed è perciò indispensabile aggiungere al nostro cibo la maggior parte possibile di erbe spontanee. In particolare sono importanti le sostanze aromatiche, da cui carenza nella cucina dei paesi del nord. Non soltanto nuoce al gusto del cibo, ma lo rende anche meno assimilabile. Anche la storia delle piante coltivabili è interessante. Essa dà uno sguardo del tutto nuovo dell'andamento generale della storia, che si presenta alla persona in modo più concreto. Ti bacio con affetto, cara Olia. Sii sana. 18 giugno 1937. Cara Anulia, di recente ho ricevuto un intero pacchetto di lettere vostre di aprile e maggio, l'ultima delle quali del 31 maggio, e anche una lettera della mamma. Spero che i figli abbiano già finito gli esami e ora possano riposare. Ma che cosa si può fare perché anche tu ti riposi almeno un po'? Saperti sovraffaticata mi preoccupa molto, e poi devi assolutamente andare da un medico e curarti la schiena e le gambe. Infatti, anche la tua eccessiva fatica, in buona parte, è dovuta non tanto al lavoro quanto al tuo stato di malattia, nel quale qualunque sforzo, anche minimo, è gravoso ed estenuante. Mi compiaccio con voi, del piccolo. Della tristezza che mi causa il fatto di non vederlo, non occorre neanche parlare. La nostra vita è profondamente cambiata. Siamo sempre al cremlino e non essendoci praticamente lavoro, in cortile c'è sempre una piccola folla. Fare qualcosa di utile in tali condizioni è impossibile, nonostante gli sforzi che faccio in questo senso, tanto più che lo stato d'animo e di incertezza impedisce di concentrarsi su qualsiasi cosa che richieda sforzo e attenzione, e tanto più entusiasmo. L'unica cosa positiva è che negli ultimi tempi spesso non fa freddo e splende il sole. Quanto sia soleggiato, puoi dedurlo dal fatto che molti qui fanno i bagni di sole. Naturalmente fa luce tutto il giorno e anche a mezzanotte fa del tutto chiaro, come lì a casa, la sera, subito dopo il tramonto. Negli ultimi giorni mi sono trovato un posticino più isolato, con una bellissima vista sul mare e le isole lontane, sicché pur dalla finestra vedo la natura. Questo posticino è una veranda, chiusa da vetri al terzo piano, sopra il muro di cinta del cremlino appartenente al museo. Ora quasi ogni giorno vado al museo, in parte per occuparmi di matematica, in parte per dare dei consigli relativi all'esposizione, all'adattazione dei materiali antichi e per altre consulenze. Non ci sono grandi antichità, soltanto pochi oggetti della fine del quindicesimo secolo, tutto il resto risale al sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo secolo, ma ci sono oggetti belli e ben dipinti. E dovrò partire da qui, mi dispiacerà per il mare, anche se ora lo vedo solo da lontano. Fin dall'infanzia le impressioni del mare sono diventate per me le più intime e se non vedo il mare mi sento privato di qualcosa, anche quando non penso alla causa di questo sentimento. Spesso mi scrivi del nostro giardino e io sono molto contento che viviate in stretto contatto con i fiori e l'erba. Ciò è particolarmente importante per te e per il piccolo per imparare a orientarsi nel bosco. Seguo col pensiero tutte le nostre piante attraverso le tue lettere. Qualche giorno fa ho visto in sogno che tornavo da Scovorodino, ma là era tutto distrutto e scompigliato e mi sono rattristato. Ho paura di qualche cambiamento e il segno per me sicuro che ciò stia per arrivare è aver fatto una certa abitudine al luogo, averlo accettato. Ora io sono penetrato nella natura delle Solovki e proprio perciò comincio a sentire che la situazione cambierà, ma non nella direzione che sarebbe auspicabile, cioè non verso l'estremo est. Ora mi trovo nella veranda davanti alla finestra e ogni tanto guardo l'orizzonte che si stende con i suoi golfi, le sue penisole, le sue isole. Il mare è azzurro, d'acciaio. Nel golfo vicino scintillano infiniti guizzi di luce e io ho capito perché essi risultino come morti nelle fotografie nei quadri. Ogni guizzo non è un punto, ma una freccia di luce che esce dal mare. Queste linee di luce che sorgono e spariscono in un attimo, si intrecciano tra loro in tutte le direzioni possibili e formano una rete viva. Cara Tika, io devo continuamente separarmi da qualcosa. Ho dato l'addio al Biosant, poi alla natura delle Solovki, poi alle alghe, poi allo Lodprom. Chissà che non debba dare l'addio anche all'isola. Mi chiedi di insegnarti qualcosa, ma adesso non ho colori e poi se anche ti disegnassi qualcosa non te lo potrei mandare perché non si può. Bisogna aspettare un'occasione migliore. Puoi prendere dal mio album del Caucaso un'illustrazione di geologia o un'alga e appenderle nella tua stanza. Prendi però qualcosa di bello e mettilo dietro un vetro. Mi dispiace di non poter più disegnare perché è un'attività che riposa come la musica per chi suona. Spero che al mio posto disegnerà la mia bambina e forse lo farà meglio del papà. Salutami la nonna e a F. Baciami la mamma e il piccolo e fagli vedere qualcosa di bello. I gabbiani mi hanno detto che hai un vestitino nuovo, è vero? Un bacio affettuoso alla mia bambina. Cara mammina, ho ricevuto la tua lettera, ma essa non dice niente della tua salute. Spero che il sole e il caldo ti rimettano in sesto. Nella mia stanza accanto a me abita un armeno di Tbilisi, già piuttosto anziano. Cosicché abbiamo diverse conoscenze comuni e di sera a volte ricordiamo assieme Tbilisi. Le mie impressioni sulle solocfi ora si limitano alle persone e sono quindi per me le meno interessanti. Già da diverso tempo non disegno più le alghe per via della mancanza del microscopio, di un luogo adatto e dei colori. Sono comunque contento di aver potuto disegnare per voi almeno quel poco che hai visto. Purtroppo, a quanto pare, non tutto vi è arrivato. Io sto bene, ma ora non è possibile lavorare sul serio e l'assenza di un lavoro intenso e utile indebolisce a fatica allo stesso tempo. Ti bacio, cara mammina. Abbi cura di te e sii sana. Bacia per me, gli uscia e sciura. Testamento Per Anna e i miei figli, Kirill e Olecka, nel caso della mia morte, 11 aprile 1917. Vi prego, miei cari, quando mi seppellite, di fare la comunione in quello stesso giorno, o se questo proprio non dovesse essere possibile, nei giorni immediatamente successivi. E in generale vi prego di comunicarvi spesso, dopo la mia morte. Non rattristatevi e non soffrite per me, se potete. Se sarete lieti e forti, con ciò mi darete la pace. Io sarò sempre con voi in spirito e se il Signore me lo concederà, verrò spesso da voi e vi guarderò. Voi però confidate sempre nel Signore e nella Sua Purissima Madre. E non rattristatevi. La cosa più importante che vi chiedo è di ricordarvi del Signore e di vivere al Suo cospetto. Con ciò è detto tutto ciò che voglio dirvi. Il resto non sono che dettagli e cose secondarie. Ma questo non dimenticatelo mai. Non dimenticate la vostra stirpe, il vostro passato. Studiate quanto riguarda i vostri nonni e antenati. Adoperatevi a rafforzarne la memoria. Cercate di fissare per iscritto tutto quanto potete sul passato della nostra stirpe, della famiglia, della casa, l'arredamento, le cose, i libri. Sforzatevi di raccogliere ritratti, scritti autografi, lettere, opere stampate e manoscritti di tutti coloro che hanno avuto rapporti con la nostra famiglia e stirpe. Di conoscenti, parenti e amici, affinché l'intera storia della stirpe rimanga fissata nella vostra casa. E tutto attorno a voi si è intriso di ricordi. E niente sia morto, veramente materiale e non vivificato dallo spirito. Non vendete, se non in caso di estrema necessità, né la casa, né la biblioteca, né le cose di famiglia. Soprattutto vorrei che la nostra casa continuasse a lungo ad appartenere alla famiglia, affinché voi, i vostri figli e nipoti, troviate per lungo tempo sotto le ali di San Sergio un baluardo e un appoggio sicuro. È mia convinzione che la nostra stirpe abbia dei rappresentanti presso il trono di Dio. Sento che migliaia di ragioni divine e migliaia di sguardi nemici in agguato guidano la nostra stirpe verso un unico fine, quello di non tradire il servizio all'altare divino che ci ha stato affidato. Il rifiuto di questo servizio, la fuga dall'altare, comporterà per la nostra casa un pesante destino. Penso che le difficoltà che ha attraversato la nostra stirpe, a cominciare dal nonno, siano una conseguenza dell'avere abbandonato l'altare di Dio. Che in ogni generazione almeno uno sia sacerdote. La cosa migliore è essere come me, sacerdote per se stessi, per il servizio divino e avere una qualche professione particolare. Pensateci, figli miei, mi pare che i compiti della nostra stirpe non siano pratici né amministrativi, ma contemplativi, speculativi e organizzativi nella sfera della vita spirituale e in quella della cultura e dell'educazione. Cercate di meditare su questi compiti della nostra stirpe, di non deflettere dal perseguirli e nella misura del possibile di mantenervi fedeli all'attività che c'è propria. Non cercate il potere, la ricchezza e il prestigio. Tutto ciò non ci si addice. Tuttavia, in piccola parte, queste cose verranno da sé. Altrimenti, la vita diventerà per voi noiosa e pesante. Cari figli miei, questo periodo della rivoluzione è stato talmente difficile che non si può nemmeno immaginare. È stato difficile, e lo è, ed io sa quanto ancora durerà. Le epidemie, la fame, il costo della vita incredibilmente elevato. La mancanza di diritti, la possibilità di ogni genere di violenza. Insomma, tutto quanto ci si può immaginare di difficile non è mai mancato attorno a noi. Ma la misericordia di Dio, la protezione della Purissima Vergine e l'aiuto di San Sergio, come anche le preghiere dello Ieromonaco Isidor e del Vescovo Antoni e forse anche dell'Archimandrita Pimen, non ci hanno abbandonato. E per gran miracolo non abbiamo patito privazioni, benché, secondo la logica umana, saremmo dovuti morire mille volte di fame, freddo e malattie e subire ogni genere di violenza. Cari figli miei, il Signore ci ha custoditi. Non siamo stati privati della sua protezione. Non dimenticate mai, ve lo chiedo e ve lo lascio come mia volontà, questo tempo della vostra infanzia, e chiedete sempre aiuto al Signore, alla Madre di Dio e a San Sergio, amico di Dio e ancora ai Santi Nicola, il Taumaturgo, Serafino e ai vostri angeli custodi. Rivolgete le vostre ardenti suppliche e richieste di aiuto agli amici e protettori della nostra casa, lo Ieromonaco Isidor, il Vescovo Antoni e l'Archimandrita Pimen. Non dimenticatevelo. Sappiate che ho avuto tante occasioni di convincermi, abbiamo avuto tante occasioni di convincerci dell'efficacia delle preghiere e suppliche rivolte a loro. Ancora una volta ve lo dico, miei cari, non dimenticateli. Rivolgetevi a loro ogni volta che ne avrete necessità. Ricordatevi che in loro avete dei protettori della nostra casa che ci conoscono, si amano e che si sono presi cura di noi durante la loro vita. Miei cari, in questo difficile periodo, gli amici e i conoscenti ci hanno molto aiutato e senza il loro aiuto non saremmo potuti sopravvivere. Molti hanno manifestato una bontà e un'attenzione che noi non abbiamo meritato. Anche voi, miei cari, siate sempre nella vita buoni e attenti verso le persone. Non dovete mettervi a distribuire e sperperare i beni o le carezze e i consigli. Ciò che occorre non è la beneficenza. Cercate piuttosto di essere vigilanti e tempestivi nel soccorrere concretamente tutti i bisognosi d'aiuto che Dio vi manderà. Siate buoni e generosi. Quando invece voi stessi patirete difficoltà, invocate Dio, rivolgetevi ai santi uomini di Dio. Nicola e Taumaturgo, San Sergio e San Serafino, rivolgetevi ai protettori della nostra casa di cui vi ho già parlato. Credetemi, miei cari, parlo per grande esperienza. Essi non vi negheranno il loro aiuto. Molte volte mi sono persuaso dell'efficacia delle preghiere rivolte a loro e non mi è mai capitato di non essere ascoltato quando li ho pregati per qualcosa. Ecco dunque, miei cari, miei amati, non dimenticate mai di pregare e di chiedere l'aiuto dei protettori celesti. Quanto agli amici che ci hanno aiutato, nominerò in particolare Natalia Alessandrovna Kiseleva, Sofia Sergeyevna Tuskova, Sofia Ivanovna Urgneva e alcuni dei miei studenti dell'Accademia. Miei cari, il peccato che mi sarebbe particolarmente penoso vedere in voi è l'invidia. Non abbiate invidia, miei amati, di nessuno. Non siate invidiosi, perché l'invidia rende lo spirito piccolo e volgare. Se proprio desiderate possedere qualcosa, datevi da fare, chiedendo a Dio che vi dia ciò che desiderate. Ma non invidiate nessuno. La meschinità dell'animo, la grettezza, i petticolezzi insolenti, la cattiveria, gli intrighi, tutto ciò proviene dall'invidia. Ma voi non siate invidiosi. Datemi questa consolazione ed io sarò con voi e per quanto potrò, pregherò il Signore che vi aiuti. E ancora, non giudicate, non condannate chi è più anziano di voi. Non sparlate e cercate di coprire il peccato e di non evidenziarlo. Dite a voi stessi, chi sono io per condannare gli altri? Conosco forse le loro motivazioni interiori per poter giudicare? Il giudizio nasce soprattutto dall'invidia ed è una cosa abominevole. Abbiate per ognuno il rispetto dovuto. Non adulate nessuno e non umiliatevi. Ma non giudicate le questioni che non vi sono state affidate da Dio. Occupatevi dell'opera vostra. Cercate di compierla nel migliore dei modi. E tutto ciò che fate, fatelo non per gli altri, ma per voi stessi, per la vostra anima, cercando di trarre da tutto vantaggio, insegnamento, alimento per l'anima, perché neanche un solo istante della vostra vita vi scorra accanto senza senso o contenuto. Amati figlioletti miei, il mio cuore si strugge per voi. Quando crescerete capirete quanto si strugga il cuore di un padre o di una madre per i figli. Il mio cuore si strugge anche per la mia povera mamma, che è tutta sola e alla quale non ho la forza interiore di avvicinarmi. Avrai tante cose da scrivervi. Mi vengono tanti pensieri e sentimenti, ma non ho né il tempo né le forze per scriverli. Eccovi una cosa che non posso scrivere. Abituatevi, educate voi stessi a fare tutto ciò che fate perfettamente, con cura e precisione, che il vostro agire non abbia niente di impreciso. Non fate niente senza provarvi gusto, in modo grossolano. Ricordatevi che nell'approssimazione si può perdere tutta la vita, mentre al contrario, nel compiere con precisione e al ritmo giusto anche le cose e le questioni di secondaria importanza, si possono scoprire molti aspetti che in seguito potranno essere per voi fonte profondissima di un nuovo atto creativo. Non so perché, ma da questo punto di vista sono tranquillo per Olechka e in parte anche per Kira, mentre temo che il mio primogenito Vashenka possa fare dei passi falsi e vivere poi come capita. Voglio a Dio che non sia così, ma ho timore che Vashenka diventi come lo zio Shura. E ancora, chi agisce con approssimazione si abitua anche a parlare con approssimazione e il parlare grossolano, impreciso e sciatto coinvolge in questa indeterminatezza anche il pensiero. Cari figlioletti miei, non permettete a voi stessi di pensare in maniera grossolana. Il pensiero è un dono di Dio ed esige che si abbia cura di sé. Essere precisi e chiari nei propri pensieri è il segno della libertà spirituale e della gioia del pensiero. È da tanto che voglio scrivere. Osservate più spesso le stelle. Quando avrete un peso nell'animo, guardate le stelle o l'azzurro del cielo. Quando vi sentirete tristi, quando vi offenderanno, quando qualcosa non vi riuscirà, quando la tempesta si scatenerà nel vostro animo, uscite all'aria aperta e intrattenetevi da soli col cielo. Allora la vostra anima troverà la quiete. Mick, caro bimbo mio, fai sempre male e non riesci ad uscire dalle malattie e dalle sofferenze. Non accusare di questo la mamma, piccolo mio, perché lei ha sofferto e soffre più di te. Ciò che ti tormenta è il tempo in cui vivi. Che la protezione della madre di Dio sia sempre sopra di te, mio angelo luminoso. Sappi che noi ti amiamo di tutto cuore e prendiamo per te, figlioletto mio amato. Vivi per la gioia tua e di tutti e che il Signore ti protegga, bimbo mio.